Ed ecco qui che bene o male si torna a ritrattare questo tema, un tema che sinceramente io seguo abbastanza spesso con interesse perché è abbastanza importante dato che si parla comunque direttamente o indirettamente anche del bene delle società calcistiche vedendo che di anno in anno si vanno a spartire le quote legate ai diritti televisivi e quindi tocca anche un pochino capire, rimanere aggiornati su quella che è la situazione dei broadcaster televisivi perché sinceramente quando si parla di Dazon la situazione non è che inizia proprio ad essere delle migliori certo se poi magari andiamo a pensare all'uscita di Corona di qualche mese fa dove dice beh Dazon sta praticamente fallendo insomma vedendo la provenienza della fonte lascia il tutto veramente il tempo che trova però se effettivamente andiamo a pensare quanto Dazon investe e quelli che sono i risultati che sta ottenendo beh la situazione non dico sia totalmente allarmante ma probabilmente non ci andiamo neanche troppo lontani e quindi parliamone ovviamente con tutta la giusta calma e la tranquillità del mondo per ciò che ovviamente ci compete noi al massimo ci possiamo limitare solamente a fare qualche considerazione del caso e ci mancherebbe e prima di entrare nel merito come al solito ragazzuoli belli vi invito a lasciare un bel mi piace di sostegno di supporto e mi raccomando se ancora non l'avete fatto iscrivetevi perché manca sempre meno a Empoli Juventus poi ci sarà la Champions poi ci saranno le prime partite di cartello insomma dobbiamo continuare a macinare come già meravigliosamente stiamo facendo detto questo qual è la situazione generale di Dazon prendendo ovviamente come riferimento quelle che sono state le prime tre partite della stagione 2024-2025 andando a fare dei confronti facendo il confronto con quelli che erano gli spettatori delle prime tre giornate nelle stagioni passate perché se ci andiamo effettivamente un attimino a riflettere su si prospettano anche sonori cazzi potrebbe dire qualcuno con una certa eleganza nelle prime tre giornate del campionato Dazon ha perso per strada 1,6 milioni di telespettatori che diventano 2.8 nel confronto con l'estate 2022 in cui la Serie A è riniziata pure prima dovendo disputare la giornata del debutto senza nemmeno che fosse arrivato ferragosto un dato allarmante per il principale partner della Lega Serie A fino al 2029 e di rimbalzo anche per i club italiani che già nell'ultima asta hanno misurato la difficoltà a strappare almeno condizioni economiche simili al triennio precedente non è un problema solo uno strano ma il legame tra le società della Serie A e i ricavi dei diritti tv è ancora così stretto da dover osservare con la massima attenzione e prudenza quanto accade al prodotto finale messo in circolazione le rivelazioni Auditel di quanto accaduto nelle prime 30 partite di questa stagione fa suonare più di un campanello d'allarme 11.845.788 individui un anno fa dopo la terza giornata erano 13.476.734 che già faceva registrare una contrazione rispetto ai 14.639.442 dell'avvio del campionato 2022-23 tradotto rispetto all'agosto 2023 il calo è del 12% e la forbice diventa del 19% sul 2022 che sinceramente penso la dica abbastanza lunga poi dopo è ovvio uno può pensare quello che vuole ci mancherebbe però immagino che parte dell'inflazione sia partita proprio da gennaio del 2023 quando c'è stato un evento anche abbastanza importante abbastanza impegnativo che ha scosso in una maniera tutto sommato anche abbastanza importante il campionato 2022-2023 di fatto andandolo a falsare di fatto togliendo praticamente il senso al campionato stesso magari con l'aggiunta che già sembrava scontato che il Napoli poi avrebbe alzato il terzo titolo della sua storia cosa poi puntualmente accaduta però che che se ne dica soprattutto col senno di poi non penso che al tempo fossero solo ed esclusivamente 6.000 queste fantomatiche disdette ovviamente non 2 milioni come è il calo dalla stagione 2022-2023 ad oggi però diciamo che sicuramente neanche quelle fantomatiche 6.000 ecco però ovviamente per quanto ci compete andiamo sempre più nello specifico tornando ai numeri nelle prime 30 sfide della stagione su Dazon non c'è stato il picco sopra il milione nemmeno per le squadre che trainano gli ascolti come Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma e l'audience è rimasta sotto la soglia dei 4 milioni in tutti i turni mentre un anno fa era sempre stata superiore e nel 2022 addirittura oltre 5 milioni per la seconda e per la terza giornata le partite più viste sono state Verona Juve e Juventus Como l'Inter ha toccato il top con gli 818.508 del big match contro l'Atalanta Lazio-Milan sfida teoricamente tra due bacini interessanti ha registrato 604.822 contatti medi contro 1.200.000 dello scorso campionato diretta di venerdì sera a inizio marzo per il Napoli il top è stato 411.560 contro il Bologna qui si potrebbe fare anche una battuta forse si potrebbe dire che molto probabilmente le persone che hanno visto la partita sono state decisamente di più quelle legali magari solamente quel numero lì piccola battuta ma che sinceramente concedetemela però purtroppo effettivamente quando si parla di ascolti e quando si parla anche di attrattività del calcio italiano soprattutto all'estero bisogna porre la lente di ingrandimento anche su aspetti di questo genere da segnalare anche il record negativo assoluto in Polimonza sabato 17 agosto si sono collegati in 11.266 che fondamentalmente è tipo un mio video neanche andato troppo bene tra le altre cose e questo penso la dica veramente lunga ci possono aprire potenzialmente anche tanti altri discorsi che può essere dalla riduzione del numero di squadre partecipanti che così magari vai anche un pochettino a scavarti dei maroni magari quell'utenza che effettivamente non dà un grandissimo contributo come abbiamo la possibilità di vedere rendendo per quanto possibile il campionato un pochino più competitivo vedendo che la lotta per la retrocessione si fa sempre più avvincente e magari allo stesso tempo pure quella per le competizioni europee però al di là di questo discorso che ci mancherebbe altro può essere condivisibile come no fai fatica poi a voler cercare di ottenere il miliardo e passa l'anno per i diritti televisivi o magari cercare di diventare quanto più attrattivo possibile anche di fronte all'occhio di un potenziale spettatore estero quando magari veramente ci sono partite alcune delle quali sulla carta anche abbastanza importanti abbastanza affascinanti o per motivi di classifico per blasone delle squadre coinvolte che fanno se tutto va bene neanche 100.000 spettatori non le caghiamo noi pretendiamo che in un qualche modo queste partite vengano cagate all'estero adesso con tutto il bene del mondo senza girarci neanche troppo attorno quelle squadre poi alla fine del campionato è anche sempre giusto ricordare che vanno a prendere la stessa cifra a livello di spartizione dei diritti televisivi a momenti di chi ti garantisce quasi ad ogni partita circa il milione di telespettatori un altro problema che se ci andiamo a pensare non è proprio del tutto banale dopo lì è questione di Lega non di Dazon e ci mancherebbe altro non è Dazon che decide quanto dare a chi a livello di diritti televisivi ci mancherebbe però mi sembrava comunque giusto informarvi anche di questa roba che se ci andiamo a riflettere fa un pochettino ridere perché poi soprattutto per quale motivo magari gli ascolti sono anche così bassi ci sono in realtà tante considerazioni da poter fare e magari per quanto possibile cercherò di toccarle un pochettino tutte quante però c'è un dato oggettivo che è anche difficile da confutare sinceramente senza addentrarsi nelle offerte last minute nelle proposte di finanziamenti e rateizzazioni varie per vedere la Serie A su Dazon bisognerà spendere una cifra variabile tra 359 e 599 euro l'anno per il campionato 23-24 il conto era da 299 a 449 e il rincaro è stato ben oltre l'inflazione e infatti noi ci possiamo girare attorno veramente quanto ci pare però costa e sinceramente fa ridere sentire l'amministratore delegato della Lega Serie A che magari ci presenta davanti ai microfoni a dire no sapete che tutto sommato il prezzo del calcio in Italia è giusto? insomma io avrei anche da ridire perché poi bisogna anche vedere in mano a chi dai quei soldi legittimamente ci mancherebbe altro a quello che è il broadcaster e in questo caso Dazon assolutamente ma che servizio ti offre? e soprattutto il servizio che offre è accessibile a tutti quanti? perché poi è inutile girarci attorno e si vanno a toccare sempre i soliti discorsi purtroppo l'Italia è ancora un paese dove la connessione non è che viaggi da nord a sud indistintamente e tutti hanno la possibilità di vedere il prodotto alla massima qualità senza il minimo problema a parte che poi anche laddove magari la connessione c'è e non ci dovrebbero sulla carta essere problemi da quel punto di vista poi magari spesso e volentieri ci pensa da Zon stesso a creare dei disservizi anche poco piacevoli soprattutto quando magari si inizia a parlare di partite di cartello che quindi hanno un bacino d'utenza all'interno della piattaforma anche abbastanza importante tutto sommato poi naturalmente magari si vanno ad escludere tutte quelle persone che non hanno quella facilità nell'utilizzare internet e nell'utilizzare quindi di conseguenza anche da Zon che se magari prima bastava ci fosse Mediaset o Sky dove di fatto accendevi il televisore e selezionavi il canale giusto adesso è vero che in parte anche su Sky potenzialmente c'è la possibilità di avere il canale da Zon pagando di più tra le altre cose se non sbaglio quindi può essere in parte una piccola risoluzione del problema però bene o male ci siamo capiti bene o male ti sei andato anche a scegliere direttamente o indirettamente una fascia d'età quella un pochino con più abilità quando si parla di connessioni di internet e di siti streaming a tutti gli effetti che ovviamente non bisogna fare di tutto un erbo un fascio indubbiamente ci saranno anche delle persone avanti con l'età abilissime anche sotto quel punto di vista ci mancherebbe però statisticamente viene da sé che il ragazzo il trentenne il quarantenne ormai anche il cinquantenne sia un pochino più abile rispetto il settantenne e l'ottantenne che magari può porre rimedio andando a vedere la partita al bar per intenderci ma che poi al di là di tutto quando si inizia come abbiamo visto a parlare di 400 se non 600 euro all'anno ci può stare che della gente abbia delle difficoltà perché è vero che magari sempre per la legge a grandi linee del break even point meno clienti hai più devi alzare il prezzo per raggiungere il punto di equilibrio però non puoi neanche strozzare chi costantemente ti paga alzando quasi a momenti di mese in mese quello che è il costo dell'abbonamento soprattutto soprattutto per un servizio che se poi ci vai a pensare non è che sia tutta questa grandissima roba qui non a caso una notizia che ha fatto anche abbastanza scalpore sotto certi punti di vista quest'estate e che nonostante tutto sono stati licenziati a momenti la metà dei giornalisti all'interno di Dazon erano tipo in 32 ne sono stati licenziati 14 quindi anche poi a livello di servizio di prodotto che viene offerto al di là di quella che è la partita e che ci sia dietro tutto questo immenso lavoro certo qualche programma c'è qualche intervista c'è qualcosa di interessante indubbiamente c'è ma che vale la cifra investita ecco lì sinceramente inizia ad andare sul chi va là e andando veramente avanti in questa maniera qui andrà a finire come aveva predetto Corona pensato un po' che cosa mi tocca dire a settembre 2024 riguardo da Zon io questo non lo so però insomma vedendo che questi qui da qui al 2029 dovranno sborsare qualche miliardo e più passano i mesi gli anni e più ci sono cali del 15 20% a botta andando avanti così sempre per la legge no del pareggio cos'è ti arriverà a costare 700 euro l'anno un abbonamento e andando avanti così mi sa proprio che la gente sempre più gente ad onor del vero inizierà a stufarsi inizierà a disdire poi a voglia anche con tutto il bene del mondo e per quanto indubbiamente sia un qualcosa di sbagliato ci mancherebbe dire la pirateria uccide il calcio siamo completamente d'accordo però magari anche a livello di prestino forse così buttandola lì magari non è che mettendo l'abbonamento a 20 euro al mese riesci ad attirare quanta più gente possibile che magari torna a fare la roba nel legale per dire avvicinandosi per quanto possibile ovviamente a quelli che sono i prezzi dell'illegalità perché a sto punto mi viene da riflettere io sinceramente non so quanto costi 10 euro 15 euro al mese boh veramente non ho proprio la più palida idea se fai un pacchetto che con 20 euro sei a posto probabilmente la gente dice per 5 euro in più provo a fare il bene della mia squadra probabilmente il numero di telespettatori non dico che torni sui 6 milioni a weekend senza nessun tipo di problema ma questo lavoro qui è uno spianto diciamocelo chiaramente fai anche fatica poi a dire beh no il prezzo del calcio in Italia è giusto e beh i risultati però si vedono alla fine la giuria popolare è proprio il cliente e vedendo come sta cambiando a livello numerico la clientela non penso che il calcio in Italia sia poi così tanto giusto a livello di prezzi ma questa è una mia riflessione voi ovviamente fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve a livello